Dico umano, l'uomo delfino, è un personaggio che ha fatto parlare di sé, nel 2004, era un utente su Facebook, metteva in continuazione, post, e video, davvero inquietanti e strani, questi video contenevano un audio davvero agghiaccianti, eccone un esempio. Era realmente l'uomo delfino, purtroppo non si sa con certezza, si dice sia un hacker, la parte più inquietante, è quando nel 2006, è stata caricata una foto, che molti sostengono, sia quella vera, del uomo delfino, dopo il 2006 però, l'uomo delfino non si è più fatto sentire, non era più presente sui vari social, solo un account privato su TikTok.